Disse David Dunning, se mi chiedete quale sia la singola caratteristica che rende una persona soggetta a questo autoinganno, io direi che è respirare. A tutti noi è capitato, almeno una volta nella vita, di essere convinti di saper fare qualcosa e poi scoprire, una volta messi alla prova, di essere lontanissimi dalla possibilità di riuscire a farla. Eravamo preda dell'effetto noto come Dunning-Kruger. Pensavamo di essere capaci e invece non lo eravamo. Se passiamo dalla sfera delle capacità manuali a quella cognitiva, il discorso cambia, perché sostanzialmente si può affermare che le persone che ne sanno meno su un dato argomento pensino invece di essere più competenti di altre, magari con titoli e risultati che invece suggerirebbero il contrario. È il classico esempio del paziente analfabeta che pensa di parlare allo stesso livello del medico, disquisendo su questa o su quell'altra terapia in base alla propria esperienza. La base di conoscenze che fornisce l'Università di Medicina è insostituibile dall'esperienza, ma l'analfabeta non lo sa, convinto della bontà delle proprie teorie. Quell'ipotetico analfabeta è quindi preda dell'effetto Dunning-Kruger, nome che viene dai due psicologi che descrissero in un paper scientifico per primi il fenomeno. La scoperta di questo effetto nacque per puro caso. Era il 1995 e un rapinatore si presentò a una manca di Pittsburgh, pistola alla mano, per rubare naturalmente quante più banconote possibili. Il suo nome era Wheeler MacArthur e brandiva in mano una pistola. I dipendenti si stupirono perché, a parte i vestiti, il rapinatore era a volto scoperto incurante delle telecamere di sicurezza. Una volta effettuata la rapina raggiunse un'altra banca e rapinò anche quella. Anche in quel caso nessun passamontagna, solo la pistola avvisò scoperto. Dopo pochissimo la polizia lo rintracciò e lo arrestò, ma Wheeler si disse stupito perché era convinto di avere il volto invisibile. La convinzione derivava da un'esperienza che aveva avuto poco tempo prima. Un amico gli aveva mostrato che, scrivendo con il succo di limone su un foglio, le parole non si vedevano per ricomparire soltanto grazie alla fiamma che le anneriva. MacArthur concluse che se il limone era invisibile sul foglio, aveva anche la proprietà di rendere invisibile qualsiasi cosa e decise di provare. Prese una macchina fotografica e si scattò una fotografia. Adesso si direbbe che si fece un selfie. Clic! Una volta sviluppato il rullino, la foto mostrava il soffitto senza ombra di MacArthur. L'uomo non si era inquadrato, sbagliando la mira, ma da quella fotografia concluse che il succo di limone lo rendeva davvero invisibile. MacArthur non lo sapeva, ma aveva appena dimostrato quello che in futuro si sarebbe chiamato effetto Dunning-Kruger. Era un totale incompetente in materie scientifiche, di nessuna esperienza, anche pratica mi viene da dire, ma era convinto di avere conoscenze che altri non avevano. La sua ignoranza gli costò diversi anni di carcere, mentre ai ricercatori ispirò uno studio molto importante e conosciuto. David Dunning, incuriosito dalla vicenda, decise di sottoporre alcuni studenti a dei test presso l'università in cui lavorava, la Cornell University di New York. Assistito dallo studente Justin Kruger, fece realizzare diverse prove che riguardavano ragionamenti di logica, grammatica inglese e senso personale di umorismo. I risultati furono significativi, descritti perfettamente secoli prima da William Shakespeare. Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. Semplicemente, coloro i quali si stimavano competenti e preparati erano i peggiori della classe, mentre i più competenti, secondo i risultati dei test, stimavano le proprie conoscenze in modo leggermente inferiore rispetto alla realtà. Una volta scoperto il proprio punteggio nei test effettuati, ai soggetti fu chiesto di stimare nuovamente il proprio livello. Se i competenti riuscivano ora a collocarsi nella fascia corretta delle valutazioni, i più incompetenti continuavano a sopravvalutarsi. Per dirlo in numeri, i peggiori che facevano parte del dodicesimo percentile inferiore si stimavano almeno nel sessantaduesimo percentile, pensando di far parte della parte medio-alta della classifica. Ma se per i migliori il problema di sottostimare le proprie capacità è del tutto relativo, al massimo si può ragionare sui diversi gradi di umiltà di una persona, sovrastimare le proprie competenze invece rischia di diventare un problema sociale di grande portata. David Dunning ha proposto un'analogia con la anosognosia, ovvero quel disturbo neurologico che impedisce al paziente di riconoscere di avere un deficit. In parole povere, una persona che è diventata cieca o inabile in altro modo non riconosce il proprio handicap. L'effetto Dunning-Kruger estende la anosognosia dei propri limiti nei più svariati campi. Riassume bene la questione Socrate, vissuto ben 2500 anni fa, che disse Dovetti concludere meco stesso che veramente di cotestuomo ero più sapiente io. Costui credeva di sapere e non sapeva. Io invece, come non sapevo, neanche credevo di sapere. E infatti la famosa frase socratica, so di non sapere, è la base per porsi di fronte alla realtà in modo aperto, riuscendo a cogliere le nozioni che ci arrivano senza il pregiudizio di essere già competenti, in qualsiasi ambito. Più si approfondisce lo studio di una materia, più si capisce di non riuscire mai a coglierne l'essenza. E ogni porta che si apre non fa altro che aprirsi su di una stanza con altre porte, e così all'infinito. Questo è particolarmente vero per lo studio della storia, ma sono infiniti gli ambiti in cui questo concetto si può applicare. Ora però ci si può porre una domanda. A quanto influisce la nostra cultura occidentale nello stimare la gravità dell'effetto Dunning-Kruger sulle persone? Secondo lo studio del 2001, Divergent Consequences of Success and Failure in Japan and North America, an Investigation of Self-Miproving Motivation and Malleable Selves, traducibile in conseguenze divergenti del successo e del fallimento in Giappone e Nord America, un'indagine sulle motivazioni di automiprovazione e sui sé malleabili, ha indicato che i giapponesi tendevano a sottovalutare le proprie capacità e a vedere i propri fallimenti come un'opportunità per migliorare le loro capacità in un determinato compito, aumentando così il loro valore per il gruppo sociale. I nordamericani e occidentali, meno competenti invece, non accettano il fallimento e continuano semplicemente a sovrastimarsi, confermando l'effetto Dunning-Kruger. E voi? Vi siete mai accorti di sovrastimare le vostre capacità? Personalmente a me è successo innumerevoli volte, ma di queste una, durante la quale mi sentii profondamente stupido, fu il classico bagno di umiltà che ha completamente cambiato il mio approccio al sapere. E curiosamente non è stato in ambito scolastico, ma lavorativo. Era il 2008 e in quel periodo ero impiegato come tecnico venditore per una multinazionale dell'edilizia. Avevo studiato i manuali ed ero sicuro di riuscire a dimostrare il funzionamento di una livella laser rotante autolivellante, uno strumento delicato e costosissimo. Bene, un giorno a sorpresa il mio capo mi fa. Adesso dimostrami il funzionamento della livella. Io, convinto, monto lo strumento sul treppiede, lo accendo e inizio a spingere dei tasti. Le sbaglio tutte, tutte! La livella non si allinea, né inizia a funzionare come previsto. Io non riesco a fare assolutamente nulla. Giustamente il mio ex capo mi fa una lavata di testa che ancora ricordo e che ho sempre ben chiara come esempio di quanto non si debba essere convinti di saper fare qualcosa finché non la si è fatta. Nei commenti raccontatemi di quelle volte che eravate convinti di sapere o di saper fare qualcosa e che invece la prova pratica vi ha sbugiardato. Ma faccio una previsione. Coloro i quali sono maggiormente vittime dell'effetto Dunning-Kruger, convinti di aver fatto sempre tutto bene, saranno quelli che, qui sotto, non scriveranno niente.